Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, è in corso lo sciopero di 8 ore sulla rete di Atac, la protesta dopo il tragico incidente di ieri nel deposito di Tor Vergata è in programma sino alle 16.30, questa è la situazione, sono chiuse le metropolitane A, B e B1 e la ferrotranvia termini 100 celle, aperta invece la metro C. Per quel che riguarda bus, filobus e tram, possibili riduzioni di corse o temporanee sospensioni di linee. La protesta come detto interessa Atac, servizio normale dunque per i collegamenti bus di Roma TPL e di autoservizi troiani. L'elenco è su romamobilita.it